La discussione che si è protratta in questi anni su Vittoria Colonna e l'area ex Agip ha messo in evidenza non solo la necessità di riqualificare quelle zone, ma ha anche messo in evidenza un'altra cosa, ossia il limite che hanno avuto le rappresentanze politiche su quelle aree, ossia pensare a quelle aree come spazi isolati uno dall'altro. Il processo che deve interessare quella zona deve avere una visione di insieme, perché bisogna ricreare un dialogo urbano che è la sfida della progettazione urbana dei nostri anni. La progettazione urbana moderna necessita di, in quel caso specifico, di vedere il Vittoria Colonna come uno spazio aperto, a prescindere da quella che possa essere la destinazione, che secondo noi dovrebbe essere quella di un campus universitario, di un luogo aperto ai giovani, ma deve diventare uno spazio di transito che poi porta all'area ex Agip per poi entrare nel centro storico. Quindi la necessità dovrebbe essere non solo quella di dire cosa ci facciamo nell'area ex Agip o cosa ci facciamo nel Vittoria Colonna, ma fare una riflessione seria su quella che dovrebbe essere la nuova comunicazione tra i quartieri. La sfida dovrebbe essere proprio migliorare la comunicazione tra i quartieri e ricreare un dialogo sociale e urbano che possa anche migliorare l'accesso per i cittadini, per la mobilità dolce, per le biciclette e quindi anche per i pedoni.